Ma gli stimoli che sono venuti fuori sono tanti e sono tutti meritevoli di attenzione. Il primo è quello che vorrei rispondere ai sindacalisti che sono intervenuti ed è assolutamente vero che il provvedimento che abbiamo preso per sostenere la domanda di beni durevoli ha come obiettivo quello che noi vogliamo conservare i posti di lavoro e non gettare i lavoratori nella cassa integrazione. E quindi evidentemente questi provvedimenti che ci auguriamo stimolino sensibilmente la domanda potrà significare maggiore produzione e significando maggiore produzione potrà significare più lavoro. Questo è l'obiettivo. Ma poiché la storia ci insegna che è meglio chiarire le cose prima, devo dire con piacere che nel tavolo dell'auto che abbiamo convocato abbiamo subito significato che questo sforzo che è sostanzioso a due condizioni. Uno, che vengano mantenuti gli stabilimenti in Italia. Due, che ci sia una crescita di investimenti ulteriori sul prodotto per avere modelli. Ho visto con piacere all'inizio della trasmissione queste immagini dell'ingotto con questo prototipo che mira a 100 km con un litro. Devo dire di aver trovato forte condivisione da tutta la filiera dell'auto, sia sulla produzione sia sulla componentistica, ma noi per maggiore sicurezza abbiamo istituito un tavolo. Quindi insieme a questi incentivi, che voglio ribadire da oggi sono operativi, noi abbiamo istituito un tavolo di tutta la filiera che seguirà questo percorso perché sia garantito che gli impegni sui posti di lavoro, sulla ricerca sul prodotto e sul mantenimento degli stabilimenti esistenti venga mantenuto insieme alla verifica degli effetti, mi auguro benefici, di questo provvedimento. Vorrei aggiungere ancora quello che molto bene ha detto il dirigente del gruppo Fiat sull'innovazione. Attenzione, innovazione significa innovare il prodotto, ma far sì che il prodotto nella sua catena di produzione, senza sfruttare l'uomo, ma aiutando la tecnologia ed esaltando la capacità dei lavoratori possa permettere di avere un costo inferiore con un prodotto migliore. E allora, credo sia giusto dire in tempi in cui si accusa con troppa facilità gli altri, ho sentito tante accuse anche nei confronti della Fiat, lo voglio dire con la chiarezza che mi contraddistingue. La Fiat di questi anni non è la Fiat, ahimè, di un passato abbastanza recente dove era sull'orlo della crisi del fallimento e senza prodotto. La Fiat ha investito molto nell'innovazione, nella ricerca, ha dei prodotti competitivi e la dimostrazione è una sola, avrà colpito tutti. Se con la Chrysler si chiuderà, come mi auguro, l'accordo Fiat-Chrysler, questo avviene perché non la Chrysler si mangia la Fiat, ma perché la Fiat senza sborso di denaro, grazie ai suoi prodotti, riesce ad intervenire in quella che era la patria della modernità che erano gli Stati Uniti. Da ultimo, i provvedimenti per non distorcere il mercato non si possono fare con aiuti di Stato alle imprese, noi non lo tollereremo e questo annuncio di Sarkozy sull'aiuto di Stato alle case francesi, anche su sollecitazione italiana ha già avuto rimbrotti dell'Europa, noi dobbiamo non distorcere il mercato, ma investire affinché il consumo faccia aumentare la produzione su prodotti di innovazione tecnologica.